battle royale soldato indica un punto di lancio per il team attenzione gli assi in avvicinamento l'obiettivo principale è farli tutti fuori vado qui lasciate stare vedo movimento non ti ricordo Grazie a tutti ci sono ho visto compagno inviato nel gulag combatterà per tornare in azione 2 per arrivare nemici nel l'area Sto i osso per il senso. il compagno ritorna in azione attendi no sono con te, basta ma lui ma lui con l'italiano ha scettato ora sei nel gulag, lotta per tornare in azione sono due in quella stanza pronti allo scontro, stanno sotto, lui sta su te, io credevo che stava più sotto, invece sotto stanno i nemici no ag, non ci stai a fuoco, per me in quella stanza lì stanno vinci questo scontro e torni in prima linea, perdi e per te è finito tocca a te soldato, occupati di quello stronzo cacco il sapo per le feste, se ha abbastanza soldi il tuo team può pagarti la cauzione vabbè chi è stato fatto qua? chi no? Vivo 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 il motivo per andare atterrare a 2 km da noi e poi me lo devi spiegare stupido la mia linea è mia si, mi animo l'amico qui c'è un venditore, qua c'è lì non è che da mix ha rianimato a me, non ho l'amico, cosa ti fa spiegare che fa? fucile di precisione qui c'è un venditore, rifornitevi pure l'amico sold out please si dai di soldi, ah ok ce ne arrivo avete un lancio d'equipaggiamento in arrivo qui ci sono corazze sei scemo qui ci sono corazze grazie, thank you ma sono unissimo in Italia l'obiettivo è eliminare il bersaglio taglia la taglia è la corona l'obiettivo lancio d'equipaggiamento in arrivo non so no nuova zona sicura individuata la zona scolita è in attività UAPI NEMICO IN VOLO C'è attività nemica Stavo mi atterrando sto deficiente Dai mister Mi ho atterrato io uno comunque Sì pure io Eh si spanno alla Ah sì Coraggio Aspetta non mi curare non mi curare non mi curare non mi curare C'è attività nemica Vedo movimento Dove cazzo? Cazzo che ho detto Cazzo in arrivo Poi stavo a moris che tranquillamente Qui c'è un venditore Non è tima nient'altro Cos'è riformito? Si ma io voglio le piazze Cazzo ho buttato a terra Arbor please Ma va a fa' al culo va Attenzione un nemico mi insegue Mi ha frecati i soldi a lui Vai dritto che questo non gioca a me Mi fa salire Ok Moriremo facilissimo E' un attorato Ok I rodi che dobbiamo regalare Vai blitz Arbor Vai arbor Che cazzo Come cazzo Lo vuoi chiamare Sei sceme E' sceso E' sceso E' sceso Fa una nasola Tempo del contratto scaduto Abbiamo perso il bersaglio Niente Niente Lì Mali please Cazzo Me li prendo io Vai Adler Vai Adler Vai Adler Vai Adler Vai Adler Mi ferme una coratta Credo io Dai qua c'è un'entra E' quel cretino Qui c'è un venditore Give me one Ok Apposta Ero tu cazzo I soldi Nella tomba li li hai portato Nella tomba li hai portato Vai i plates Fate finta di niente Compra plates Compra Oh alleluia Si ha fatto lei plates L'ha comprato Tu quale ne hai? Zero Oltre quelle che ho messo Tieni questo Ne tengo io due Spara un acqua? Non c'è un veicolo Ma comunque prima stava parlando Che? Uno Veicolo leggero Ma che veicolo? No No veicolo Non c'è un'entrae Non c'è un'entrae Non c'è un'entrae Chi è Crusticlano? Si Ok Stancarello qua Stancarello Non so perché mi sento Che prenderanno Questo ricercante Mi senti che? Che prenderanno L'obiettivo ricercante Equipaggiamento Letale Qui Non ce l'ho Non me ne scappo Sopra Mi sposto qui Stanno lì sopra Ah si Vengo bene Vedo movimento Gassi in arrivo Alla nuova zona sicura L'hai preso Ah no Non si è tu C'è Ah Hanno ucciso Mi hanno ferito Però non l'hanno ucciso Hanno preso Il racconto Comanzato 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 Stefano Comanzato al riparo Per mezz'ora, ti... Ora, la safe è lontana. Eh, lo so. Andiamo, allora. Vedo la safe zone. Si intendo di sempre. Ne vedo uno! Cassi in arrivo! Ehi, attenzione! C'è chi è nata colossale! Ho visto un veicolo! Adesso era l'uomo dei veicoli. Ahahahah! Lei è stato pure a prester spazzo! Run! No, 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 ma una a una sulle racchia l'axo! Mi fieto di pianto! Andiamo! Andiamo in macchina! No, no, no! Perché poi ci fanno saltare in aria! Leave the vehicle! Questi sono scenderanno all'alto! Ci ammazzano tutti! Sì, intanto... Vedi, io sto nella seconda posizione della fila! Quindi spareranno a me! E lo sparo non è al primo né all'ultimo! Quasi... Quasi...quasi successe! Sono andando a morire! Le foglie! Ah, ma quasi sale su! Sì! Serve a qualcuno! Lasciate stare! Guarda fino là! Ah! Vedo nessuno! Ma dove sto stuporando acqua di casa? Ma stia adesso! La colonna sta distrutto! Versaglio qui! Eh, ma sarà abbassato! Sì! Quindi lo ammazzano! Sì, ma due minuti! Sì, no! È abbassato e si vede l'altra ping! E non voglio andare su perché altrimenti quello avrà messo Claymore... No, basta scherzare! Piuttosto gli ammazzerai amici quando li trovi! Erast, ti sta coprendo dietro! Ah beh! Sono sicuro! È una botte di ferro, dico! Mi sento proprio protetto! Mi sento proprio protetto! Io mi sento così protetto! Vedi che faccia ti ho! Che fai? Infezione! Sono stato tranquillato! Mi tagliate i testi! In movimento! Nuova zona sicura e individuata! Ma te che frega quello! C'è un HDR senza... UABINEMICO IN VOLO! UABINEMICO IN VOLO! UABINEMICO IN VOLO! Ah vedi già quello l'elicottero sono andato in un'altra... Elicottero qui! Ma chi sta sparando? C'è anche un gran amica! Alla grande! Capito! Come li devo uccidere? Ok? Il mitraglione arriva lontano! Basta! Manco li vedo io! Sienti fortissimi! UABINEMICO IN VOLO! UABINEMICO IN VOLO! Ho provo a usare la... L'MP5! La safe peggio! Mamma mia! La safe peggio! Cazzo! Sono tutti sulla torre! Cazzo! Cazzo! Cazzo in arrivo! In movimento! Ignorate quello che ho detto! Con piacere! Il tuo elicottero di merda è molto significato! Alla zona sicura! È partito con l'elicottero! Ma si è buttato uno! Ma è uscito! E' attività nemica! Veicolo questo! Eccolo che ci sta buttando! C'è battagli ne... E' morto per coppia dei nemici secondo me! Sono andato proprio lì! Lo stanno trucidando! Batteria esaurita! Torretta fuori uso! In contatto! C'è un quad? Che mi sembra quello di prima! Uabin nemico in volo! Perché si ha fatto un giro su tutta la montagna! Ho lasciato! Ho lasciato! Ho lasciato! Ho lasciato il quad! Lo pingo! Uabin nemico in volo! Uabin nemico in volo! Uabin nemico in volo! Uabin nemico in volo! Ho disto! Ho chiesto a me! E' morto! Bravo! Ho avvenuto! Ho avvenuto! Compaio inviato nel Gulag! Combatterà per tornare in azione! La si è andato! Si è oriani! Il compagno ritorna in azione! Attendi! Qui ci sono corazze! Qui ci sono corazze! E questi mobi a prendere le armi moriranno! Ma devi vedere! Qua ha tirato uno! Quando? A tanto! Gas in movimento! Nuova zona sicura e individuata! C'è! C'è riuscito Velos! C'è riuscito! Ma tieni qualche la safe! E' sempre la più lontana! Basta uno! NEMICO QUI! Sono bloccato! Arriva un lancio d'equipaggiamento! No! L'hanno chiamato loro eh! L'hanno chiamato loro eh! L'hanno chiamato loro eh! Sono usciti ora! Carro! Eliminato! C'era 35 metri con il mitraglione! Cava di cazzo! Stavo un altro qua dentro eh! Veicolo leggero! Qui! Mi muovo di qua! Lasciate stare! Si ne pingo tre! Eh! Non è andato! C'è in the room! Io sto dietro dietro! Devono uscire! Le people in the police! C'è lontana! C'è lontana! C'è lontano! Avete del gas in arrivo! Eh bisogna uscire! Poi stanno scendendo eh! Quell'altro perché sta lì? VEDO MOVIMENTO! Caccatissimo! Sì però io li ho rizzati a motore! Ma poi dilaccano gli altri! VEDO MOVIMENTO! Ho scatto! Posizione marcata! Vado! No! Ho sbagliato! Non ho resciato! Eh devo farlo! Mi hanno colpito! gas in arrivo! Nuova zona sicura contrassegnata! Novi nemici attivi! Braccali! L'ho visto sopra! Davanti a me! Eh sì! Sì! A terra! Andiamo! All'altro qua eh! In movimento! Si! Piazza una carica! Qua! 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 del gas in arrivo. C'è una piastra se c'è una in giù. Contatto nemico. Ragazzi. Sta qua sopra eh. Perdiamo terreno. Forza. Stai vedere se lo pingo. Mi piastrare che non ce le ho tutte. Sì andiamo che poi lo va di là. Dove cazzo sto? Ha figato lui. Eccolo. Hanno scelto lo scontro sbagliato. Abbiamo vinto. Vedi come è nuoto la vedi. Siamo tornati. È la partita più difficile della storia da questa tecnicamente. Siamo tornati. Ho scambiato tutte le armi. Sono tornato a un ground, abbiamo vinto. Non lo so. Stai. Ho giocato pure con calcio rimosso che io ho, che hanno depotenziato. 400. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì.